In quest'ora, scarsa, inizieremo sicuramente, iniziamo a parlare delle Philips Hue e come interfacciarsi con le Philips Hue attraverso le sue API REST, così vi diamo anche un esempio pratico della teoria vista nell'ora precedente. Prima di arrivare all'esempio pratico, però, vi voglio raccontare come funzionano da molto lontano le Philips Hue, il sistema, poi a lezione di teoria vedrete qualche dettaglio in più sul protocollo utilizzato e proveremo a fare, come dire, la prima installazione delle Philips Hue e vedere quali sono i passaggi che sono richiesti anche dal protocollo e alcuni di questi passaggi sono anche poi richiesti per sviluppare un software che si interfacci con le Philips Hue. Allora, il nostro obiettivo, diciamo da un punto di vista software di oggi, è relativamente semplice. Noi vogliamo creare un client REST per le Philips Hue che accenda tutte le luci gestite dal sistema Philips. In questo caso noi ne abbiamo tre in università e io qui su questa scrivania ne ho due che sono tuttora accese, la terza è nella scatola. Quindi accendere tutte quelle luci che in questo momento sono accese. Mostrare un effetto che si chiama color loop, quindi cambiare i colori delle luci in maniera automatica per 10 secondi e dopo 10 secondi spegnerle. Quindi tutto sommato una cosa relativamente facile. Accenderla, color loop, 10 secondi di color loop in cui il sistema cambierà continuamente il colore di queste luci, queste tre lampadine sono lampadine on-off e possono anche cambiare colore e poi dopo 10 secondi spegnerle. Tutto questo lo faremo in Java e useremo come documentazione questo link developers.mitu.com slash develop slash uAPI che sono le API REST dello Philips Hue con le istruzioni su come impostare anche da un punto di vista del mondo reale un software che interagisca con le Philips Hue. per accedere a questa documentazione dovete avere un account sul sito, su quel sito lì, un account gratuito ma vi serve un account altrimenti non vedete l'API. Il sito in questione è questo, una volta che vi siete loggati. Dove ci sono le istruzioni per iniziare, ci sono anche l'API REST, delle varie cose, per esempio sulle luci, per prendere tutte le luci, API username che serve per l'autenticazione slash lights come abbiamo immaginato prima. Ma torniamo su get started. L'esempio in Java sarà poi, c'è già un link su dir, sarà poi ospitato su GitHub, esiste già un repository che si chiama Ujava ma che in questo momento è vuoto perché non abbiamo ancora fatto niente. Allora, come funzionano le Philips Hue? Le Philips Hue hanno due, diciamo, componenti, uno è un componente singolo e l'altro è un insieme di componenti. L'insieme di componenti sono le lampade che possono essere come queste, quindi lampadine, diciamo, normali, tradizionali, che se cadono si rompono, come tutte le lampadine, che a differenza delle altre lampadine costano un occhio di una testa, quindi magari la posiamo. E oltre a queste ci sono le lampadine uguali esteticamente ma che non cambiano colore, ci sono delle striscia LED, ci sono anche poi altri prodotti, telecomandi, per accendere queste lampadine che funzionano solo nel mondo Philips. E questo è un insieme di componenti. Voi potete avere una, due, tre, cinquanta lampadine, un numero molto alto di lampadine in casa e luci in generale. Dall'altra parte di questo componente c'è un bridge, uno scatolotto che deve essere alimentato, potenzialmente attaccato a internet e sicuramente attaccato alla rete locale tramite internet. In questo caso questo scatolotto è in quel rack sul muro. Su DIR c'è una pagina che si chiama Materiale Configurazione Credenziali, dove, tra le altre cose, c'è l'indirizzo IP di questo bridge, di questo scatolotto, che è 172.30.1.138 ed è raggiungibile sia dai computer fissi, sia dai vostri computer, se siete collegati alla rete Wi-Fi di Ateneo. Sicuramente da Euro-ROM, mi dicono da questa settimana, anche da Wi-Fi UnipmN. Ha un indirizzo IP, se voi andate su quell'indirizzo IP, da un browser vedete questa schermata, che è una lunga lista di software open source che quel bridge utilizza al suo interno e niente più. Essenzialmente è una discretamente lunga lista. Dopodiché, in questa pagina metteremo lo username che genereremo quando ci sarà bisogno, in modo che se voi farete dei progetti in cui utilizzerete queste lampadine, potete utilizzare quello stesso username senza rigenerarne un altro. C'è il link alla documentazione come prima e le Philips Hue, una cosa positiva che ha come sistema, una delle cose positive che ha come sistema è che esiste un emulatore interamente software realizzato non da Philips ma da un'altra persona che si può scaricare e simula l'API del sistema Philips. Questo emulatore, giusto per... è molto semplice. è fatto in Java e è una cosa così, una schermata nera con delle scritte, un bottone per far partire e fermare il server rest che emula il bridge su una porta a vostra scelta, di default è la 8000 e poi vi mostra il bridge e tre lampadine accese di tre colori a caso e voi potete aggiungere lampadine dai menu di questo, toglierle, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi simula tutto via software senza aver bisogno del bridge e di essere fisicamente qui. come vi dicevo il bridge questo lo chiudo adesso il bridge da una parte appunto ha bisogno di Ethernet e Internet per eventuali aggiornamenti dall'altra crea una rete ZigBee quindi le Philips U utilizzano una rete ZigBee quella 802.15.4 sopra questa rete viene utilizzato un profilo specifico ZigBee ZigBee come protocollo è molto molto generico a livello rete esiste una cosa che si chiama ZigBee Alliance che ha creato vari profili uno dei quali forse il più utilizzato quanto meno da un punto di vista consumer è lo Smart Lightning che come dice il nome è fatto apposta per l'illuminazione quindi il bridge comunica con queste lampadine attraverso il protocollo ZigBee secondo il profilo Smart Lightning noi non vediamo cosa succede a livello wireless ZigBee ma accediamo al bridge attraverso le sue API che poi trasformerà quei comandi in relativi pacchetti ZigBee secondo questo determinato profilo questa è un'altra cosa bella delle Philips U è che usando un protocollo standard e aperto come ZigBee è accessibile come il profilo Smart Lightning e con l'hub della Philips possono funzionare lampadine che non sono della Philips basta che siano ZigBee Smart Lightning e viceversa le lampadine della Philips possono funzionare con gateway che non sono con bridge con gateway che non sono quello della Philips quindi per esempio queste lampadine funzionano con l'eco plus perché l'eco plus al suo interno ha un gateway ZigBee le lampadine dell'IKEA quelle della Smart Home IKEA funzionano con il bridge Philips perché sono fatte sullo Smart Lightning eccetera le lampadine da Philips funzionano con il gateway dell'IKEA questo proprio perché hanno scelto questo protocollo aperto dopodiché hanno poi fatto alcune cose tipo creare un telecomando e il telecomando dato che non è una luce e sfrutta fino a un certo punto il profilo Smart Lightning ma poi non è compatibile con altri gateway che non siano quello della Philips quindi mentre le luci sono completamente compatibili e interoperabili alcuni altri prodotti della Philips no questo è giusto per rendere l'idea ZigBee più il profilo Smart Lightning hanno anche una serie di procedure anche per la sicurezza per esempio non è possibile creare o anche banalmente associare un'applicazione mobile per accedere a quel gateway uno se non sei sulla rete locale che mi sembra abbastanza ovvio dato che vi ho appena detto che deve essere attaccato alla rete locale e due se non sei fisicamente vicini al bridge quindi se voi siete avete in casa e passa uno per strada e riesce ad accedere alla vostra rete locale comunque non può controllare le vostre lampadine perché deve per attivare l'applicazione fare un'operazione fisica sul bridge quindi deve essere a contatto col bridge questo è proprio specificato nel profilo Smart Lightning Smart Lightning questa è proprio una procedura normale per il mondo Zigbee che vale per la Philips ma vale anche per altri produttori fatemi dire dal punto di vista software che noi useremo l'interfaccia REST come dire nuda e cruda proprio perché vogliamo fare un esempio di come si utilizza l'interfaccia REST che abbiamo visto prima esiste un SDK ufficiale della Philips per Java soprattutto per il mondo Android ma funziona anche nel mondo desktop che ha questo indirizzo che è molto più completo delle cose che faremo noi ma a noi serve giusto per dimostrare le funzionalità e fare quattro operazioni necessarie questo SDK contiene molte più cose contiene i concetti di stanze contiene le scene per cui voi dite ok io voglio la scena party e le luci si azionano si modificano secondo quella specifica configurazione e così via a noi e nel progetto basterà accenderle spegnere regolare il colore quindi cose relativamente semplici da fare allora per utilizzare e adesso partiamo con la parte più pratica per utilizzare il bridge voi avete bisogno di uno smartphone o di un tablet io sto usando il mio e ve lo proietto qui e dell'app della Philips che è gratuita su gli store sia iOS che iPhone che Android e quando voi aprite l'app e siete collegati alla rete alla stessa rete locale lui come prima cosa cerca il bridge il bridge è così è proprio dipinto così e in questo caso non lo trova e non lo trova qua dice nessun nuovo Ubridge trovato non lo trova perché qui in questa rete non viene pubblicizzato il bridge ma bisogna inserire l'indirizzo IP a mano di questo bridge quindi in maniera estremamente intuitiva si preme su guida e si inserisce l'IP manuale che non lo ricordo ma è 172 30 1 138 a questo punto si preme cerca e lui immediatamente lo trova qua c'è scritto un nuovo bridge trovato e io a questo punto posso premere connetti nel momento in cui premo connetti c'è una parte per cui ho chiesto il vostro collega di farmi da perché io sono legato col microfono e nel momento in cui premo connetti lui mi dice premi prima che finisca questa barra il bottone che è sulle bridge appena lui preme il bottone il bridge si grazie il bridge si collega quasi istantaneamente all'applicazione e trova le lampadine che sono state precedentemente associate a questo bridge Zigbee e questo mondo Philips in particolare è molto molto resistente e robusto per cui queste lampadine sono state associate tre anni fa vengono utilizzate raramente come immaginate perché questo corso è nel secondo semestre ma nel primo semestre ne usa nessuno solo in una scatola sopra e lui nonostante sia passato sei mesi non ha problemi a trovarle e a permettere di comandarle queste lampadine sono state messe in una stanza che si chiama Lab 3 e sono tre lampadine la Philips Hue 4 è quella nella scatola la 1 e la 2 sono quelle accese e uno può spegnerle adesso chi in fondo mi spiace ma si sono spente e accenderle cambiare la luminosità di una o di tutte e due e in teoria anche cambiare anche cambiare il colore singolarmente o questo è giusto per provare che funzioni no no? oppure spegnere l'intera stanza in questo caso tutte le lampadine che abbiamo e adesso le lascio spente ok e in realtà io ho saltato un pezzettino che ho fatto stamattina dalle 10 alle 11 che è la prima cosa che quando voi installate un dispositivo IoT sia che l'abbiate che non l'abbiate vi viene chiesta che è secondo voi no beh la rete è ovvio sì mi sono collegato alla rete Wi-Fi che cosa mi avrà mai chiesto che mi ha fatto perdere un'ora di tempo stamattina di aggiornarsi ovviamente sì in un'ora si sono aggiornati il bridge si sono mezza aggiornate queste due lampadine perché le vuole tutte e tre per aggiornarle tutte insieme e non c'è modo di rinforzarle e quindi quello è un passaggio che ho fatto prima proprio per evitare di stare qui a guardare lo schermo con una barretta che dice il bridge si sta riavviando quindi questo è quanto quindi il sistema funziona l'app funziona perché serve la pressione di quel di quel bottone serve per autenticarvi e cosa succede quando viene premuto quel bottone viene generato un codice che è quello username che dicevamo prima che viene comunicato in questo caso all'app e l'app da oggi in poi quando è su questa rete con questo bridge è autorizzata attraverso questo username ad accedere al bridge se la disinstallo come ho fatto in realtà e la reinstallo ho bisogno di un nuovo username ok ora come fare ad avere questo username se dobbiamo sviluppare noi un'app si può sicuramente avere in modalità interattiva come fa l'app della philips quindi una specie di bottone connetti che poi in un certo tempo mentre si preme il bottone fisico restituisce in maniera dinamica interattiva lo username oppure lo si può chiedere all'api rest del bridge ottenerlo e utilizzarlo incollato nel codice essenzialmente noi per semplicità faremo e per comunità faremo questa seconda scelta quindi genereremo un username che poi metterò su diro in modo che tutti possano utilizzare quello username allora come si genera questo username c'è questa guida segui tre semplici passi primo assicurate che sia collegato alla rete che il bridge lo è e che funzioni l'abbiamo provato e due hai bisogno l'indirizzo IP del bridge e lo avevamo finché non ho chiuso dir ok oppure si può usare upnp che qui però non funziona su questa rete per scoprirlo eccetera passo tre una volta che hai l'indirizzo IP raggiungi questo sito https ip del bridge slash debug slash clip punto html che mostra un'interfaccia tipo questa un'interfaccia molto spartana ma che serve per ottenere per testare l'API se volete ma anche per ottenere i codici l'username ecco notate a proposito dell'username che questo passaggio non è richiesto nell'emulatore nell'emulatore c'è uno username di default che new developer tutto minuscolo tutto attaccato che è sempre valido con l'emulatore non c'è bisogno di generare uno username c'è l'username di default qui no non più quindi andiamo all'indirizzo del bridge che sappiamo essere niente che è questo c'è anche il link all'interfaccia di debug e abbiamo questo API debugger che è molto semplice ha i quattro metodi HTTP che abbiamo visto prima ha uno spazio per inserire la URL relativa quindi senza il bra l'indirizzo IP ha uno spazio per inserire il message body la request e uno spazio per vedere la risposta quindi se noi seguiamo la guida lui ci dice che prima di tutto di fare questa chiamata quindi API new developer sulla get per vedere che tutto funzioni e tutto funziona perché ci dice errore utente non autorizzato perché abbiamo bisogno dello username a questo punto dobbiamo generare uno username come lo generiamo? lo generiamo facendo una post perché vogliamo creare una nuova risorsa su API questo potremmo aspettarci su API slash users o API slash usernames seguendo lo stile rest qui lo fanno direttamente su API perché non ha una collezione non è proprio possibile recuperare una collezione del tuo username ogni username vive a sé stante poi non c'è modo di recuperarlo se lo perdete per loro scelta e quindi una post ha questo indirizzo con questo body il body è un json molto semplice una chiave diciamo è un valore il nome è device type e il valore è composto da due parti secondo il loro suggerimento la prima parte è il nome o lo scopo della mia applicazione e la seconda parte dopo il cancelletto è il dispositivo su cui utilizzerò quell'applicazione quindi quando il mio telefono si è agganciato avrà mandato un API simile a ufficial uapp cancelletto iphone luigi o una cosa del genere quindi dispositivo e nome dell'applicazione quindi facciamola anche noi abbiamo bisogno su API come corpo del messaggio mettiamo chiamiamola ujava e qui lo chiamiamo computer questo richiede una post e prima che io premo post vado avanti a leggere per voi più che altro perché la risposta a questa post sarà errore utente non autorizzato perché bisognerà di nuovo premere il bottone quindi richiedo a lui appena premo post di tornare a ripremere il bottone ripremerò post un'altra volta e a quel punto dovrei avere l'username quindi non abbiamo lo scorrimento che c'era prima ma in teoria quindi io premo post mi viene link button not pressed lui adesso preme il bottone io rimando la post e mi viene successo username e questo username che non sto a leggere ovviamente ma che adesso copiamo e incolliamo su dir così lo avete questo è lo username che dovremo inserire in ogni richiesta successiva che faremo in un nostro software quindi fatemelo intanto mettere su dir così è salvato ok salva ok adesso che abbiamo l'username lui per esempio ci dice provate a utilizzarlo allora proviamo a utilizzarlo proviamo a prendere le informazioni sulle luci anche per vedere che tipo di risposta ci aspettiamo dalle Philips Hue quindi lui dice se voi fate una get a api slash username slash lights come abbiamo immaginato dovreste trovare un json che contiene le informazioni sulle lampade del vostro sistema quindi su api slash username proprio così incollato lights senza message body una get ecco cosa otteniamo questa risposta la Philips Hue la Philips ha deciso che nella get di tutte le risorse non dà solo la lista delle luci ma dà anche tutte le informazioni relative a delle luci e allora guardiamo un attimo quali sono queste informazioni prima di tutto lasciatemi dire che fa una cosa orribile che è quello di mettere l'id della luce come chiave di quell'oggetto per cui poi è difficilissimo prenderlo e convertirlo non è difficilissimo è abbastanza brutto prenderlo e convertirlo in un oggetto java corrispondente perché in una chiave l'avessero messo come campo id saremmo stati tutti più contenti dopodiché e quell'uno identifica la luce con id numero 1 sotto avremo che è una di quelle due sotto avremo la luce con id numero 3 che è l'altra che abbiamo lì attaccata e sotto ancora avremo la luce con id numero 4 che è quella nella scatola perché manca la luce numero 2 no non si è rotta fortunatamente non l'hanno anche rubata no sono sempre state quelle 3 non sono state né rubate né rotte né scambiate perché la luce è stata disassociata dal bridge e quindi lui non riutilizza fino al primo reset che viene fatto gli id che sono stati utilizzati quindi è stata tolta una luce l'id 2 era stato già usato da una luce in precedenza anche se non c'è più viene assegnato un id nuovo quindi la vecchia lampada 2 è diventata la nuova lampada 4 essenzialmente quindi se noi ne togliamo un'altra avremo la lampada 5 perderemo la lampada 3 per esempio o la lampada 4 quali informazioni ci sono dentro questo elenco e quali informazioni ci serviranno a noi per agire allora prima di tutto c'è un oggetto che si chiama stato che come immaginate rappresenta lo stato lo stato della singola lampadina poi c'è un oggetto che si chiama software update che in questo caso è in ready to install perché si è scaricato un aggiornamento del firmware delle lampadine ed è pronto per essere installato ma finché non c'è la terza lampadina attaccata è aggiornabile non si installa quindi sta così e il tipo della lampadina questi sono extended color light perché sono lampadine che possono essere modificata anche il colore esistono come vi dicevo prima lampadine senza colore solo on e off il nome il nome impostato dentro l'app che si può cambiare il nome impostato dalle persone che in questo caso è ucolorlamp1 un id di modello chi è il produttore che è Philips perché chi è il produttore perché come vi dicevo prima supporta anche altri produttori l'importante è che parlano di Zigbee e il nome del prodotto le sei stato certificato eccetera 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 un id univoco la versione software ma quello che ci interessa come immaginerete sta dentro questo state allora dentro questo state ci sono un po' di proprietà la prima proprietà si chiama on e ha valore vero o falso quindi quando on è vero la lampadina sarà acceso e quando on è falso la lampadina sarà spenta questa è una scelta un po' particolare della Philips altri dispositivi di home automation di domotica o di IoT non usano il concetto di on falso o on vero ma hanno uno stato che è acceso oppure uno stato che è spento quindi qui per accendere una lampadina le devi dire metti on a vero e per spegnerla le devi metti on a falso in altri dispositivi puoi dirgli metti lo stato a on oppure metti lo stato off dopodiché ci sono tre valori brightness saturation e u che sono un primo modo per impostare la luminosità e il colore della lampadina quindi la luminosità la brightness la saturation l'intensità del colore l'intensità in quel momento presente e la u che è la tinta specifica che state vedendo quindi uno potrebbe avere una tinta u sul rosso e idealmente una brightness che è una luminosità quindi più o meno luminosa e una saturation quanto questo rosso tende al rosso acceso o quanto questo rosso tende al rosa sbiadito per capirci se c'è un effetto specificato no non c'è noi imposteremo un effetto che è il color loop quindi qui a un certo punto vorremmo modificare quella proprietà effect c'è poi un xy che è il secondo modo e il modo preferito e il modo anche più complicato da calcolare a mano di impostare il colore la Philips raffigura le sue lampadine su un piano xy in cui quelle sono coordinate di un specifico colore all'interno di questo piano l'impostazione di xy impatta la brightness la hue e la saturation e viceversa l'impostazione della brightness della hue e della saturation impatta l'xy se c'è un alert attivo in questo caso no non ne attiveremo qual è il color mode quello normale e se è raggiungibile cioè se il bridge è riuscito a raggiungere la lampadina noi dovremmo avere la lampadina 1 come raggiungibile perché l'abbiamo appena spenta la lampadina 3 anche esatto mentre la lampadina 4 non dovrebbe essere raggiungibile esatto perché il bridge non può parlare via ZigBee con la lampadina quindi noi quello che faremo diciamo la prossima volta sarà andare a modificare le proprietà di quelle due lampadine o di due di queste lampadine la proprietà on e le proprietà brightness hue and saturation e per l'effetto per applicare il color loop direttamente alla proprietà fx ecco poi qui ci mostra per esempio se noi vogliamo accendere una lampadina cosa dovremmo fare dovremmo qui come immaginiamo slash 1 che è l'id della lampadina che vogliamo accendere slash state ricordate che in quel json c'è l'oggetto state on false brightness 250 eccetera e passare come siccome è una modifica vogliamo passare come corpo del messaggio qualcosa quindi vogliamo non recuperare lo stato di una lampadina ma vogliamo aggiornare lo stato di una lampadina in questo caso accendendola accendendola lui mantiene il colore la brightness e la saturation che c'era prima senza modificare niente e siccome vogliamo aggiornare lo stato e c'è qualcuno che sta giocando con la lampadina siccome vogliamo aggiornare lo stato dobbiamo fare una put ok ovviamente se la lampadina è accesa tu gli dici accenditi lei sta accesa quindi una put con false la accende e una put con true una put con false la spegne e una put con true la accende andando qui a mettere per esempio color loop effect due punti color loop accende la lampadina e fa partire il color loop adesso adesso non non lo sto facendo se noi mettessimo brightness o saturation o u a qualche valore ovviamente accenderebbe la lampadina e cambierebbe la u la brightness o la saturation quindi in questo oggetto json possiamo mettere poi tutte le proprietà che ci interessa modificare sulla lampada ecco notate che di nuovo in questo caso la philips ha fatto una scelta tutto sommato ragionevole che è quella di dire se voglio cambiare lo stato di una lampadina aggiorno lights id della luce state con il valore parziale stavolta della risorsa che voglio aggiornare l'altra alternativa quale potrebbe essere? uno può aggiornare lo stato oppure inviare un sì no ok aggiornare gli stati è un modo di farlo l'altro modo di farlo che viene utilizzato è quello di non aggiornare qualcosa di esistente ma di inviare un co un comando per esempio potrebbe essere aggiornare il comando on adesso non funziona ma qui si potrebbe immaginare di avere un commans on aggiorno il comando on oppure un commans che riceve direttamente qui un tipo value on per esempio qui non funziona sulla Philips ma altri produttori altri dispositivi invece hanno quest'altra concezione non aggiorniamo lo stato recuperiamo lo stato quando vogliamo azionare qualcosa agiamo sui suoi comandi aggiornando il comando inviando con un apposto un nuovo comando vi tolgo il giocattolo scusate ok no no adesso commans non è niente allora chi sceglie di utilizzare commans commans è una collezione di risorse sì è una risorsa ipoteticamente per parlare uno potrebbe chiedere una get da ambi i comandi che posso inviare a questo dispositivo un dispositivo può avere stati che sono diversi dal comando un sensore ha degli stati non ha comandi il sensore di luminosità ti dice qual è la luminosità quindi tu puoi recuperare gli stati della luminosità dell'ambiente della presenza di qualcuno ma non puoi dirgli illumina perché non è un un dispositivo azionabile è solo un sensore quindi in quel caso chi fa questa scelta sceglie di separare quello che sono le informazioni che posso ottenere e quelle che sono invece i comandi che posso fornire quindi alle lampadine c'è abbastanza una parità io posso cambiare la luminosità posso cambiare il colore posso accenderle e spegnerle che fa parte dello stato e quindi potrei azionarle ci sono altri dispositivi i sensori sicuramente in cui non hanno i comandi ma ci sono dispositivi più complessi il termostato per esempio potrebbe essere uno di questi che ha alcune cose che tu utente non puoi cambiare ma che ti può venire dato la temperatura attualmente rilevata può essere solo un'informazione da sensore in un certo senso che ti viene a fornire in uno stato ma che tu non puoi aggiornare tu puoi aggiornare la temperatura impostata che però non è uno stato che tu fornisci volendo perché non è è una cosa che tu imposti in modo che lui funzioni quindi mantengono questa differenza in questo caso questa differenza non c'è e loro hanno scelto questa non è una critica è giusto per hanno scelto questa impostazione di utilizzare gli stati per far tutto sia per avere un aggiornamento ricevere le informazioni sullo stato sia per cambiare lo stato quindi questo adesso non funziona ovviamente è così stater e qui è ben detto on qui funziona così sulla Philips altri dispositivi come aspicabilmente vedremo la prossima volta utilizzano una filosofia diversa ma giusto per darvi una panoramica ok quello che dovremmo fare adesso e chiudere QuickTime e io direi in 5 minuti proviamo solo a impostare il progetto che poi faremo la prossima volta quindi come vi dicevo tendiamo a usare IntelliJ e quello che vogliamo fare è creare un software che accenda quelle luci applica color loop e dopo 10 secondi li spenga utilizzando l'API il REST quindi facendo chiamate HTTP secondo quella guida che c'è nel browser che è in parte quello che abbiamo già visto quindi qui in UAPI lights ci sono l'API delle luci che noi con i relativi metodi quindi quello che facciamo è creare un nuovo progetto un nuovo progetto Gradle voi sapete cos'è Gradle noi lo useremo solo per installare le dipendenze non per fare niente di particolare non per automatizzare molto per gestire le dipendenze quindi un progetto Gradle Java che avrà come gruppo it uniupo.it e come artifact Ujava per esempio U tutto così com'è si mettiamolo lì e poi intelligente ci penso un attimo e come probabilmente immaginerete crea una serie di cartelle tra cui la cartella SRC dove dentro c'è main e test dove dentro la cartella main c'è Java dove dentro Java creeremo i package che ci serviranno il package e la classe in questo caso che ci servirà per fare questa operazione e quello che facciamo prima di tutto però è installare le dipendenze quindi in questo gruppo dependency dentro il file Gradle dentro il file che si chiama build.gradle andiamo ad aggiungere due dipendenze la prima è una libreria e allora noi dobbiamo fare chiamata HTTP potremmo utilizzare svariate librerie in Java per farlo dalle cose più semplici più manuali come l'HTTP client in cui dobbiamo settare tutto a mano quello che ci serve a cose un pochino più di alto livello che magari sottousano a loro volta l'HTTP client e una libreria abbastanza usata e che è abbastanza semplice anche da utilizzare per quello che ci serve è RESTTemplate RESTTemplate fa parte di Spring che è un framework come vi dicevo enorme noi usiamo solo RESTTemplate e il resto del framework lo ignoriamo e lo installiamo con Gradle RESTTemplate è disponibile dentro Spring Web su Maven ma Gradle è capace di prendere le dipendenze da Maven quindi utilizziamo direttamente quello quindi implementation e org punto spring framework due punti spring web due punti l'ultima versione che è la 515 punto release che sono giusto per ricordarvi gruppo ID artifact ID e versione org spring framework due punti spring trattino web che contiene questa libreria due punti 515 punto release che è l'ultima versione di questa libreria e questo ci fornisce i metodi per fare get put post e quant'altro con delle facility per impostare il content type eccetera i vari header e l'altra cosa che ci serve dato che le Philips Hue ci restituiscono oggetti JSON e vogliono un oggetto JSON è qualcosa che ci permette di passare da una stringa a un oggetto JSON ed eventualmente viceversa e spring web supporta vari di questi convertitori e ne esistono tanti di questi convertitori uno che useremo qui che è molto snello quindi si presta anche bene poi per il mondo raspberry o in futuro se vi vorrete per il mondo o dovrete per il mondo android si chiama JSON come JSON ma con la G che è una libreria di Google che è una libreria di Google e a noi basta se è presente tra le librerie del progetto rest template la usa sotto il cofano senza bisogno di alcun tipo di azione da parte nostra quindi a noi serve implementation è dato un progetto Google quindi com.google.code.json come groupid json come artifact e l'ultima versione è la 2.8.5 quindi giusto due cose una per fare le chiamate HTTP e la seconda per gestire diciamo la serializzazione la deserializzazione del json da e per stringa con questa libreria che si chiama json che di nuovo ripeto nel codice noi non la useremo mai direttamente perché ci penserà rest template a utilizzarla in questo però per oggi per questo esempio con la Philips Hue poi lo useremo in futuro json un po' di più quindi questo se siete collegati a internet IntelliJ dovrebbe automaticamente riaggiornare il build scaricare le librerie e renderle a disposizione del vostro progetto a questo punto quello che dobbiamo fare è dentro src mainjava creare un package quindi nuovo package e lo chiamiamo it uniupo punto reti2 e dentro questo package creiamo una classe java che chiamiamo uclient perché farà da client per la Philips Hue che avrà un main che avrà un main che imposterà l'url del bridge l'username del bridge o dell'emulatore eccetera 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 ok da qui in poi riprendiamo martedì prossimo dove aggiungeremo un esempio molto simile che utilizza z-wave con la parte anche di setup diciamo così di z-wave e poi nella seconda ora invece avremo a che fare con fitbit e o out per recuperare i dati da fitbit ok allora buona giornata e buon appetito grazie a tutti Grazie.